La Col di Retti dell'Emilia Romagna è soddisfatta per l'impegno preso all'Assemblea Legislativa regionale che ha approvato all'unanimità quattro mozioni difese del Made in Italy, in particolare del latte della filiera lattiero caseario con l'accento sulla necessità di combattere la contraffazione di prodotti di eccellenza, come il parmigiano reggiano e il grana padano. Dopo la nostra mobilitazione sul latte e sul parmigiano reggiano, ricorda Col di Retti, in Assemblea Legislativa sono state presentate quattro risoluzioni, una firmata a Galeazzo Bignani, i primi firmatari di Forza Italia, Gianni Bessi, Paolo Calvano, Emanuele Arontini del PD, Giulia Gilbertone, il Movimento 5 Stelle e Alan Fabri della Lega. Qui si sono aggiunti anche Enrico Aimi, Forza Italia e Tommaso Fotti, Fratelli d'Italia, una risoluzione della Lega Nord, una del Movimento 5 Stelle e una di Tommaso Fotti, Fratelli d'Italia, tutte approvate all'unanimità. Le risoluzioni impegnano la Giunta regionale a promuovere iniziative e sollecitare le istituzioni per la valorizzazione del latte italiano, combattere la contraffazione e garantire l'etichettatura d'origine per prodotti come il latte OHT, assicurare la trasparenza della filiera, ripristinando l'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione del latte, assicurare poi l'equa redistribuzione del reddito lungo tutta la filiera. Quella dell'Assemblea Legislativa, commenta col diretti, la dimostrazione di un impegno al sostegno degli allevatori emiliano-romagnoli italiani sotto attacco del furto di valore che vede sottopagato il latte alla stalla, senza alcun beneficio per i consumatori, ma anche degli inganni con il commercio di latte e formaggi provenienti da chissà quale parte del mondo, ma spacciati come prodotti italiani. In Emilia-Romagna nel 2014 le 3.700 stalle hanno prodotto 18,7 milioni di quintali di latte, mentre le importazioni hanno raggiunto circa 12 milioni di quintali. Una situazione che rischia però di precipitare nel 2015, perché il prezzo riconosciuto agli elevatori, denuncia col diretti, non copre neanche i costi di produzione, mentre le aziende dovranno confrontarsi anche con la fine del regime europeo delle quote latte, terminato il 31 marzo dopo oltre 30 anni.